Buonasera a tutti amici di YouTube, benvenuti sul mio canale ragazzi, buon martedì sera a tutti. Oggi ha parlato Furlani dicendo che si sta lavorando al 100% per fare una squadra forte, competitiva sia in Italia che in Europa. Ha parlato anche Luftuscek, ha detto che vuole tornare leader come era anni fa, come quando era allenato da Sarri. Conosciamo tutti, Sarri è un grandissimo allenatore che sa fare gioco, ha vinto una Europa League a Londra e ha fatto altre belle cose come allenatore. Ragazzi, ieri avete visto commesso uno shorts dove facevo i complimenti alla Sud, la faccio ancora, applausi, 90 minuti di applausi, concretezza, servono rinforzi in tutti i reparti e dobbiamo chiudere in fretta gli obiettivi. Questo chiede la curva. Adesso voglio vedere se da parte vostra c'è la coerenza, oltre che attaccare me, adesso se avete i coglioni e siete uomini, come voi dite, andate ad attaccare la curva Sud, ma non lo fate perché siete chiacchieroni. Quindi è facile attaccare me, giustamente, ma quando la curva, come anche in passato, che io dicevo determinate cose, poi la curva ha risposto con striscioni, quindi io sono un po' più fumentino, ho un canale, quindi le cosiddetto subito. Qualcun altro invece cerca di far credere altro, come un qualche youtuber che dice di essere della curva, fa dei discorsi, poi lo striscione di ieri ha fatto capire che questo personaggetto va in curva, ma della curva vale proprio poco e poca roba, perché se no anche lui adesso mi deve contestare l'innominabile, lo striscione di ieri, ma non lo fa, non lo fa perché ripeto è facile attaccare me, altri youtuber come lo Zoccolo Duro, Joseph, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, Leao è già pronto, sta facendo anche lui allenamento, ha parlato Furlani, è stata una giornata molto viva, vediamo adesso come andrà al mercato, se riusciamo a chiudere e ciupa ciupa, se riusciamo a prendere il centrocampisto olandese, io voglio determinazione, come vuole la curva, voglio testa, cuore e palle da parte della società e poi ovviamente da parte di Padre Pioli e il suo gruppo. Visto che Cardinale ha detto che sta facendo un lavoro instancabile, Furlani, stiamo facendo un lavoro instancabile, questi sembra che non dormono mai, quindi, allora ragazzi, dormite anche un po' perché fino ad ora, ripeto, sono arrivati tre giocatori, Luftychek, domani arriva Pulisic, dovrebbe fare le visite, hai preso Sportiello che era già comunque preso da Paolo Maldini, hai preso Romero che Pioli vuole valutare fino a fine ritiro, bah, anche di Pioli deve valutare solo i giovani e gli altri no, poi non ho capito se Origi non cdk, non capisco perché si dà fiducia a Origi e non si dà ancora fiducia a cdk, sicuramente poi magari va via, diventa un fenomeno e ci dobbiamo mangiare le palle, come è stato con Viera in passato, come è stato con Bamoyang e tantissimi altri giocatori, quindi vediamo di aver pazienza, Origi ok, vuole rimanere, va bene, ma una punta serve sempre. Non ce lo dimentichiamo e non voglio punte come i nomi che ho sentito ultimamente, io sono per Scamacca, anche se molti non la pensano come me, per carità ognuno ai suoi gusti, io tra tutti quelli che ho sentito io voglio Scamacca, è un ragazzo che secondo me può fare molto bene, può veramente essere una punta importante per il nostro Milano, anche se per quelle poche fonti che ho sentito mi hanno detto che Scamacca preferirebbe andare alla Roma, poi staremo a vedere, perché poi nel calcio sappiamo com'è. Milinkovic Savic va in Arabia Saudita, 20 milioni l'anno ragazzi, purtroppo non ci possiamo stare dietro a queste cifre, ma io ritengo che un conto ai giocatori a fine carriera ci sta, ma uno come Milinkovic Savic che ha 28 anni, è vero, va per i soldi, 20 milioni e tutto, però potrebbe ancora andare in un grande club europeo, giocarsi ancora tanto, mio pensiero stupido. Noi Milinkovic Savic non l'abbiamo preso, non l'abbiamo chiuso, poi è arrivata l'offerta dell'Arabia, e certo che se lo prendevamo noi poi andava diversamente. E ha parlato anche Nocerino, il grandissimo nostro Nocerino, dicendo che Pulisic è veramente un talento. E poi come vi ho detto, Reinders, il centrocampista olandese, il Milan sale a 20 milioni, più 5 di bonus. Vediamo se riusciamo a strapparlo. Ma anche questo giocatorino è molto interessante, però è da vedere qui. È da vedere qui. Lo voglio ripetere. Abbiamo anche un giovane talento che ha fatto un grandissimo anno in Serie B, si chiama Nasti, che ha giocato al Cosenza e rientrato dal prestito, ha fatto un campionato veramente spettacolare, e anche merito suo se il Cosenza si è salvato, ha i play-out. Un giocatore molto molto importante, un bel talentino. I giocatori di B, come sempre, non se li cagano a Nazionale, non se li cagano i club di Serie A, e questo è un errore gravissimo, perché ci sono veramente tantissimi talenti giovani e bravi in Serie B. Ma chi non segue il calcio e non capisce un cazzo, giustamente parla a Bandela. Io la Serie B la seguo da sempre e posso garantirvi che veramente ci sono giocatori top, giovani da prendere, magari dare in prestito un anno o due e poi buttarli dentro. Vediamo. Vediamo anche Nasti che fine farà un grande saluto da parte del Cosenza, un giocatore lodato, gli ha voluto bene, ha dato tanto a Cosenza, e adesso vedremo il da farsi. Pioli passa al 4-3-3, questo ve lo dissi già in passato, diciamo che rimane tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Queste sembrano le indicazioni. Infatti sembra proprio fare un 4-3-3 per avere un Milan di muscoli e centimetri e verticalità. Questo sembra quello che Padre Pioli vuole portare a termine come lavoro. Staremo a vedere. Come ho detto, do tempo fino al 25 luglio, poi inizio a incazzarmi. Perché è stato chiaro lo striscione, sono stato chiaro io da tempo, e non solo io, altri youtuber che sono della mia idea e li saluto tutti con grande affetto, tranne ai nominabili e altri che fanno tanto che vanno in curva. Basta fare l'abbonamento in curva, non è perché fai l'abbonamento in curva sei della curva. Ci sono veramente dei ridicoli pagliaccetti che mi fanno ridere. E infatti sono curioso di vedere se fanno qualche video, ma non lo fanno, ho già guardato, parlano di tutt'altro, non hanno neanche nominato lo striscione. Comunque ragazzi, svegliati furlani, svegliati mangia poccorne, pioli, più coglioni sul mercato, più rapidità, più sveltezza. Scaroni, vedi di svegliarti anche tu, non che fai tanto l'uomo Milan, che a me non me ne è fotto un cazzo che uno è del Milan, uno è l'uomo Milan. Io voglio i fatti, io voglio i fatti. Le parole le porta via il vento. Sono stato chiaro? Quindi rapidi. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio da Gerry, iscrivetevi al mio canale, clicca, clicca, lasciate like e commenti sotto i video, attivate la campanellina per non perdere nessuna news. Ciao a tutti ragazzi e sempre, forza, vecchio cuore, rosso-nero. Furlani, veloce. Ciao a tutti.